Oggi vi presento un tè alla banana che vi permette di perdere peso e perdere grasso addominale rapidamente. Bevendo questo tè prima di andare a letto, puoi anche dormire bene, regolare i livelli di zucchero nel sangue e molto altro. Guardare il video fino alla fine e rimarrai stupito degli effetti di questa bevanda sul tuo corpo. Per preparare questa bevanda in primo luogo è necessario preparare una banana matura e sbucciarla. Per ottenere i migliori risultati ti consiglio di ottenere una banana biologica. Dopo aver sbucciato, tagliare la banana a pezzetti. Ricche di zuccheri naturali, le banane hanno spesso una cattiva reputazione per coloro che vogliono perdere peso e perdere grasso addominale. Nell'immaginario collettivo, questo frutto è troppo calorico e non potrebbe essere consumato durante un programma dimagrante. Tuttavia, contrariamente alla credenza popolare, le banane non ti fanno ingrassare. L'efficacia delle diete che includono il consumo esclusivo di banane al mattino ha dimostrato che questo è vero. In effetti, le banane sono un potente alleato per coloro che vogliono perdere peso poiché ci danno una sensazione di pienezza, più energia per esercizio fisico e migliorano l'umore. Questo frutto contiene fibre alimentari che combattono contro l'obesità. Secondo un esperimento scientifico che è stato condotto, l'amido di banana gli conferisce un ruolo importante in un processo di perdita di peso. L'amido di banana accelera anche il transito intestinale e riduce i disturbi digestivi come gonfiore o stitichezza. Se soffri di scarsa qualità del sonno, le banane possono aiutarti a dormire meglio grazie alla sua ricchezza di triptofano e magnesio. L'integrazione di magnesio favorisce la qualità del sonno e abbassa il livello di cortisolo, l'ormone dello stress. Inoltre, il triptofano ha dimostrato di alleviare i disturbi del sonno. Consumare banane ricche di triptofano aumenta anche il tuo umore. Secondo i ricercatori, consumare più alimenti contenenti triptofano migliorerà l'umore riducendo lo stress e i disturbi depressivi. Ora mettere la banana in una casseruola. Quindi aggiungere 500 millilitri di acqua. Portarlo a ebollizione. Una volta che l'acqua bolle, abbassare la fiamma e cuocere a fuoco lento per circa 10 minuti. Dopo 10 minuti spegnere il fuoco e versare la miscela in un collino per filtrare il liquido. Versare i pezzi di banana in una ciotola. Bere il liquido ottenuto prima di andare a letto può aiutarti a dormire meglio e bruciare i grassi mentre dormi. Per i pezzi di banana, usare una forchetta e schiacciarli. Oppure puoi metterli in un frullatore e frullarli. Dopodiché, cospargere un pizzico di cannella sulla banana schiacciata e consumarla la mattina successiva per stimolare energia. La cannella ha dimostrato di ridurre alcuni degli effetti negativi del consumo di cibi ricchi di grassi. Questo può aiutare in un piano di perdita di peso complessivo. Il suo effetto sui livelli di glucosio nel sangue può anche aiutare il tuo corpo a perdere peso. Questa è la ricetta per oggi, grazie per l'attenzione.